Si sono aperte le porte del carcere anche per il giovane che insieme al padre la notte tra il 6 e il 7 luglio scorsi in pieno centro ad Avellino avrebbe partecipato all'agguato di Viale Italia in cui vennero ferite a colpi di pistola tre persone. Sulla scorta di successive investigazioni dei carabinieri del comando provinciale di Avellino, il GIP del tribunale del capoluogo, su richiesta della procura, ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare per il giovane che essendo minorenne all'epoca dei fatti, è stato associato in una struttura penitenziaria minorile. L'accusa nei suoi confronti è quella di tentata omicidio plurimo, la stessa che viene contestata al padre arrestato la sera del 24 luglio dopo la sparatoria e tuttora detenuto. All'origine dell'agguato che si consumò tra centinaia di persone che festeggiavano la vittoria dell'Italia per la semifinale agli europei di calcio, ci sarebbe la vendetta nei confronti di tre feriti, tra loro legati da vincoli di parentela e frequentazione, che precedentemente avrebbero aggredito e picchiato il fratello più piccolo del giovane arrestato all'alba di oggi. Padre e figlio devono anche rispondere di possesso illegale di arma da fuoco. La pistola calibro 7,65, illegalmente detenuta, venne ritrovata dai militari in una cantina nella disponibilità del padre del diciottenne. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.